Ciao a tutte ragazze, dunque un anno fa, anzi un anno e un giorno fa perché ho guardato la data era il 7 agosto mentre oggi è l'8 e avevo fatto il video delle mie cover per il cellulare e visto che piano piano ne ho accumulati delle altre adesso voglio farvele vedere se vi interessa vedere il video vecchio nella descrizione che c'è sotto al titolo del video vi metto il link per poter guardare quel video allora partiamo subito, questa l'ho comprata in un negozio di cinesi vicino a casa mia vi ricordo che il mio cellulare è sempre il Samsung Galaxy S3 ed è questa semplicissima bianca con un cagnolino che mi ricorda un pochino la mia insomma, vagamente, è bianco insomma poi, cos'altro c'è? allora questa, penso di averla presa dai cinesi, anche questa non me lo ricordo perché questa è la più vecchia di questo video con questo bel gufino poi queste le ho prese tutte di recente io avevo scritto su ebay cover kawaii, ho guardato tanti risultati e le ho comprate qua e là quindi non mi ricordo di preciso dove le ho prese allora c'è questa con questo animaletto ciccioso e puccioso è rubida però stranamente non si è rovinato il disegno non si è mai rovinato il disegno l'avevo portata anche al mare questa ed è sopravvissuta più che bene poi questa che è molto semplice ma mi piace tantissimo cioè molto semplice, qua è vuota tipo e poi qua ha solo delle perline e a parte che qua si sta un po' staccando però vabbè sono molto carine le perline eccetera ed è molto elegante e finora direi che non se ne è staccata nessuna poi c'è questa qui che però nella foto era più bella nel senso che se si guarda da vicino non so se dalla fotocamera si vede ma è sfoccato si vedono quasi i pixel dell'immagine non è molto ben definita e quindi non è proprio neanche vabbè infine le ultime due che sono le più belle per me questa di Molang che carina in silicone c'è la tazzina che esce fuori e niente c'è Molang che mescola la cioccolata calda con dentro il marshmallow con la faccina che carina, adoro Molang e l'ultima che è quella che sto usando ultimamente è quella con lo stregatto è troppo carina anche questa anche questa è di silicone oh guardate che carino non l'avevo mai notato anche qui mi sembra che ci sia qualcosa del genere sì infatti guardate che carino ha in Molang oh che carino e niente per ora sono queste le mie cover visto che adoro comprarle quasi una collezione quando ne comprerò altre prima o poi farò altri video un bacio ciao